Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo quiz, seconda parte di quanti anni ha Siamo qui con Luciano, Elisa, Gaia, Cristina, Tony Stark, ho detto Tony, ma sei Emilio Come dice il titolo naturalmente cercheremo di, cercheranno in realtà di indovinare l'età di un determinato attore che comparirà poi a voi in questa parte del video, a loro, loro non lo vedranno lì Quindi compariranno gli attori in questa parte del video, loro lo vedranno nel telefono comunque digitalmente L'ordine è da questa parte verso quella, chi si avvicinerà di più all'età dell'attore in questione vincerà il round, comunque il punto Vi ricordo che in descrizione trovate intanto tutti i miei link dei social, il link di Pampling sempre codice Il Pensiero 4 per avere un paio di calze e supportare il mio canale e trovate anche i profili Instagram di questi partecipanti di oggi Siamo simpatici Vin Diesel 56 65 54 Penso 5, no 57 No, 56 No, 57 Decidi 56 56 Solo per la ruga L'età di Vin Diesel, nel 2023, ovviamente questo video è registrato nel 2023, è di 56 anni Quando dimostra, volevo dire un 70 51 Mie, io l'avevo detto Scusate, devo diminuire la mia onniscienza Sembra, avevo un 70 anni che li portavano a terra Io l'avevo detto Punto a Luciano e Emilio H vicino su benzina O vicino sul nafta Helen Mirren Allora, potrebbe avere tranquillamente 112 anni però Helen Mirren mi ucciderà 72 No, secondo me di più 76 Avrà 83 anni 85 No 86 71, secondo me 78 Quanto? Ho detto 76 Elisa Andrew Garfield Spider-Man I miei spazi non più veliti Che scherzo Quaranta... Quarantadue anni Trenta... Trentasei? No, no, no Trentotto Quarantadue Che bierdo Trentanove Provo con 41 Quaranta Pari Punto a infatti Siamo... Però eravamo tutti lì lì Ok, un punto Anna De Armas Che bella Non lo so Trentaquattro Secondo me Tipo quaranta portati bene Trentatré anni Trentacinque No Trentotto Trentadue Anna De Armas ha... Trentacinque anni Samuel L. Jackson Sessantasette Settantuno Settantatré Sessantanove Il numero perfetto Tanto secondo me L'età di Samuel L. Jackson è... Settantacinque Il primo punto per Gaia Oh, però l'avevo pens... Quello che penso lo devo dire Basta, non ci devo ragionare più Ho deciso Zoi Kravitz Uh, la figlia di Leonie Kravitz Ah, questo non so quanto Trentonanni Trentacinque Trentasei Trentatré Non lo so, eh Ventotto Trentacinque Oh, la... Walker Scobell Club Dei 27 Venticinque Ventidue Eh, piccolino... Ventonanni Secondo me 24 Oh! Fa ridere perché ha... Quattordici anni Quanti? Ma? Sì ma io mi si sono avvicinata che ho detto 21 Vediamo Allora... Cristina John Krasinski Quello che canta Sofia Questo non l'abbiamo già visto 34 Io sono con i miei numeri prestabiliti Sparo quelli Io volevo già dire 44 44 46 Questo ne avrà 35 41 secondo me 44 Preciso 3 punti Io sono a 2 Iman Vellani 24 Non lo so No Ma sono gofata comunque poco fa 31 22 19 16 20 ti ammazzo No Facciamo 22 21 Io detto 22 Io voglio Scusate Amo Aspetta che stiamo facendo una cosa Ora ti chiamo Facciamo Forse ci siamo avvicinati pian piano tutti Può essere Lo so Indietro Vabbè niente ci fa Cioè Cioè Vigile Christine Popo Pop Pop Pomp Clementeff 37 42 35 Eh sì Sì Passa lui No 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 30 anni 37 37 Ma fa Attenzione Sto è culo No Mark Emil Ma tu stai prendendo attori sconosciuti Mark Emil No sì io lo conosco Mark Emil sconosciuto Lui No lui ha fatto Star Wars 74 Così vecchio No più vecchio secondo me 78 78 Volevo dire che mi lamentiava Ah certo Tutto chiaro per Cristina 78 76 72 Sacha Baron Cohen Levati qua, stiamo facendo un video, una cosa seria Appena continui, ti tiro un Sacha Baron Cohen nella faccia 52 53 48 50 anni 46 52 50 ho detto Allora sono lui Mi ritiro il balletto Punto a Lucia Elena Bonham Carter Però non conosco la sua età Oh quella che ha fatto Harry Potter 40 40 quanto 40 quanto? No 40 quantico 45 È snervante sentirti parlare, lo sai? Non lo so 52 Dalle mani secondo me ne ha 56 47 51 57 Io 56 ho detto Emilia Clarke Ma buono Sì, come no? 38 39 38 40 39 37 Io e Luciano Peter Dinklage Ti posso fare una domanda? No Come fai a dire tutti questi nomi con la pronuncia perfetta? Perché sono qui Massimo Massimo 37 anni No Ne ha tipo 43 48 C'è la barbù bianca È quello che ha fatto la biancaneve Aspetta un minuto Questo ne avrà 45 47 54 54 Tejona Paris 24 anni 32 Allora, contando che ho un po' in carne E di solito si vedono meno le rughe se sei in carne Di solito Perfetto Ah, è incinta, quindi in età fertile Ok 14 anni Si ferma Poteva averne 87 Aspetta Ne ha No, dai Ne ha 28 35 30 Tejona Paris ha 36 anni Oh, ha detto 35 Gael Garcia Bernal 52 53 55 52 54 45 Che vecchio Cioè, li porta malissimo Jennifer Garner 40 56 54 anni 53 56 No, 57 49 Jennifer Garner ha 51 anni Emilio e Guy Oh, io voglio fare un po'... Almeno 4 Questo è il penultimo Vabbè, vabbè Quanto sono? Quanto sono? Non ti farei sgambare punti, Marco, Marco! Quindi Perciò Ricky Gervais 62 62 Almeno a qualche punto lo prendo Secondo me ha... Eh... Non l'ho portato proprio 60... No 66 No Lei prima è in filosofia Scusate Eh... Questo ne ha... 58 63 63 62 Chiama a sogni troppo Poi te o no? No, ma preciso Per favore Ma questo è l'occhio dello Shinigami No Ultimo E poi se ci sono punti uguali Spareggio Jenna Fischer Jenna Quanti anni hai, Jenna? Mi sta penetrando l'anima questo cavolo di sguardo Mmm... 55 56 Questa che volevo dire 46 62 51 Emilio Vieni, ma chi sono? Nespero Emilio Va bene, ho perso, ciao Io voglio la rivincita un giorno Quindi Abbiamo tutti questi grandi partecipanti che hanno fatto i loro punti Il vincitore o la vincitrice di questo quanti anni ha con l'ultimissimo round Luciano Alla facciazza di questo partecipante che mi ha dissato per tutti i giorni E quindi io godo per la mia vincita Luciano con 8 punti Emilio e Gaia con 6 punti Cristina e Elisa con 4 punti Va bene, è onesto Ora, spareggio per il secondo e il terzo Un chilometro di corsa E vince No, io preferisco arrivo volto Come? Toglietemi i punti Vabbè, primo Secondo e terzo Cioè siamo precisi Elisa sceglie le regole quindi le coppie fanno secondo e terzo Va bene È apposta A coppia di due Cioè a coppia di... No, a coppia, punto A coppia di due sei una coppia Basta Sto forte Ciao Ci vediamo presto Ciao Ciao Pugno a tutti stavolta Il pensiero 4 Pugno a tutti stavolta